Un saluto dal Tg della mobilità più treni in servizio sulla linea A e un maggior numero di bus sulle linee 40 e 64 sino a domani e il piano di potenziamento del trasporto pubblico pianificato da Atac sia per l'omaggio sia per i funerali del Papa Emerito Benedetto XVI che si svolgeranno domani dalle 9.30 per favorire l'afflusso di fedeli in Vaticano sino a domani sono previsti 25 treni in servizio sulla linea A in aumento rispetto alla normale programmazione Nella giornata delle sequie, in particolare sino al termine della cerimonia e del conseguente deflusso il numero dei treni programmati in servizio aumenterà progressivamente sino a 28 rotabili Il numero dei bus in servizio sulla linea 40 aumenteranno da 9 a 12 e sulla 64 da 15 a 20 potenziati i presidi di territorio E tutto appuntamento alla prossima edizione